Nottebook su sedi didattici consegnati questa mattina agli alunni dell'Istituto Colombo di Torre del Greco. Un'opportunità pensata per venire incontro alle difficoltà delle famiglie nella gestione in questi mesi della didattica a distanza e per gli alunni con bisogni educativi speciali. Un progetto sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per sviluppare le competenze degli studenti e contrastare la dispersione scolastica. È un evento che aspettavamo un po' da tempo e finalmente si è realizzato. Sono venuti diversi genitori a ritirare i notebook e tutto fa parte di un progetto previsto dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione. Kit e device per gli alunni in difficoltà, quindi naturalmente non solo notebook ma anche altri sussidi didattici soprattutto per i ragazzi bassi in difficoltà. Questi kit e soprattutto questi notebook che sono distribuiti serviranno naturalmente con la didattica a distanza che non è ancora finita e naturalmente gli alunni avendo a disposizione non più un cellulare bensì un notebook seguiranno meglio le lezioni e quindi le loro competenze sicuramente miglioreranno. Proprio a seguito della pandemia dello scorso anno molti alunni sono stati costretti in didattica a distanza con non poche difficoltà date proprio dall'assenza di questi materiali digitali. Sì, non è stato facile. Noi docenti ci siamo dotati, siamo dotati tutte le attrezzature, però ci sono soprattutto le attività laboratoriali che con uno smartphone non è possibile realizzare. Abbiamo dato delle demo ai ragazzi però se non avevano un notebook per poterla installare non potevamo ad esempio fare laboratorio. È soprattutto una spinta in più per i ragazzi per impegnarsi, per dimostrare sempre il massimo e per catturare naturalmente la loro attenzione che loro in effetti sono i nuovi, sono i nativi digitali quindi alcune cose sanno farle meglio di noi. Accanto ai notebook sono stati acquistati e distribuiti anche i libri di testo che sicuramente sono un aiuto perché è vero che ci sono libri di testo digitali e così via, però a volte il cartaceo serve anche come sostegno per loro nella lettura e in tutto il resto. Quindi non abbiamo tralasciato nulla in modo tale da cercare di recuperare tutte le competenze di base che gli sono necessari per poter affrontare poi tutti gli studi non solo di quest'anno ma anche futuri o comunque non solo limitati alla scuola di secondo grado ma eventualmente anche le possibilità di fare corsi di specializzazione o addirittura all'università. Lei è la mamma di un ragazzo che ha ricevuto il notebook questa mattina? Sì, sì, da cinque anni, questo è l'ultimo anno che frequenta mio figlio ed ha avuto il computer per seguire le lezioni. Adesso finisce col quinto anno, per questo gli hanno dato anche il computer, però in questa scuola mi sono trovata sempre benissima. Ecco, anche per quanto riguarda la situazione della pandemia da covid dello scorso anno, i ragazzi sono trovati improvvisamente nella didattica a distanza, alcuni anche senza mezzi. Ci hanno aiutato sempre, ci hanno dato tablet, sì, ci hanno avuto sempre incontro ad aiutarci, professori, docenti, tutti. Devo dire la verità, ci siamo trovati benissimo, non abbiamo avuto difficoltà.